Ciao a tutti da Safutobu e ben ritornati sul canale. Ricominciamo Resident Evil da dove lo avevamo interrotto e direi di posare qualcosa che per il momento non ci serve. Ci sono parecchie piantine che abbiamo lasciato nelle varie stanze quindi tornerei a recuperarle. Ecco, allora, proviamo a fare il giro di qua. Qui intanto dobbiamo tornare per bruciare quel cadavere. Di qua dovremmo tornare nei pressi dell'atrio. Più o meno, sì. Ho fatto una pausa dall'ultimo video e devo ricordarmi un pochino di qua chiuso, sì. Devo ricordarmi un po' la planimetria della villa. Dovremmo andare di qua. Comunque volevo ringraziarvi per la bella accoglienza che avete riservato a questa serie. Ho visto che piace a molti di voi quindi mi fa molto piacere. E grazie per tutti i commenti che avete lasciato. Dunque, adesso forse con la chiave che abbiamo trovato possiamo aprire questa porta. Sì, vai. Facciamoci un bel giro. Chi è? Richard! What happened? You're wounded! This whole place is a killing zone. There are monsters. What did this to you? A big snake. And it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on! Travi un serum. Vi ho visto un po' ma non ne ho portato. Andrò e prenderlo, ok? Sì, vai a farlo. Grazie. E' qua, Richard. Che cavolo ha combinato? Allora. Ah, sì, 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 perfetto. E dobbiamo tornare praticamente dove eravamo prima. Benissimo. Facciamo in fretta prima che ci lasci le pene il nostro collega. Avanti. Vai, di corsa, Jill. Eh, questo affronta i serpenti. Ho visto il siero ma non me lo porto dietro. Eh, ci dobbiamo pensare noi? Dunque, di qua. Dobbiamo praticamente fare la strada al contrario. E sperando che non ci siano nuovi pericoli, comunque, perché... Andiamo un po' di qua, mi sembra. Ah, lì lo zombie è ancora a terra, ma... Dopo un po' di tempo si... Si risvegliano. Dobbiamo trovare poi... Una tanica. Dunque, forse di qua... Sì. Vai. Abbiamo il siero. Resisti, Richard. Avanti, a tutta forza. Ok. Eh, comunque, l'atmosfera di Resident Evil è qualcosa di unico. La musica di sottofondo basta da sola per farti crescere l'ansia dentro. Allora, avanti. Poi si passa in stanze completamente silenziose. C'è sempre l'impressione che possa capitare qualsiasi cosa. Poi, se il gioco viene giocato magari di sera tardi, con luci basse o spente, è proprio perfetto. Avanti. Eccoci. Qui, Richard. Ti doverò un gioco. Scusate in là. Jill. Here's my radio. Take it. I'm... Eh, eh, niente. Dagli tempo di agire. Vabbè, allora, intanto qui abbiamo altre piantine. Vediamo un po' di qua cosa... Oh, forse è l'uscita. Ah, no. Uè. Un altro zombie. Fermo lì. Ok, questo non si rialzerà. Vediamo un po' di qua. Un po'... Vai con le munizioni. Perfetto. È troppo buio per vedere. Un candeliere. Ah, allora possiamo usare l'accendino. Vediamo un po'. Grande. Perfetto. Cartuccia e fucile. Qui non c'è altro. Qua niente. Questo... Ah, lo possiamo spostare. Attenzione, Jill. Magari spostiamolo di qua. Oh, è questo con un colpo solo. Oh, questo... Potrebbe risvegliarsi, poi. Qua. Spartito musicale. Ehm... Diamogli un'occhiata. Mancano le sezioni. Iniziale e finale. Ok, quindi... È una parte. Non la possiamo andare. Allora, forse di qua non ci torniamo più. Andiamo di qua. È chiusa. Emblema dello scudo. Quindi per il momento niente. Richard, mi raccomando, eh. Resisti, non fare scherzi. Adesso, però, vorrei passare... Ehm... Dobbiamo magari passare dalla... Dove c'era il baule e dall'altro lato. Poi qui possiamo aprire la porta, forse, sì. Ma non ci entriamo adesso. E poi... Tornerei di qua. Non so se possiamo aprire anche questa porta qui. Ok. Ci andiamo dopo perché prima voglio posare un po' di cose. E qua? Ti ho lasciato dei proiettili nella stanza a destra. Usali pure se ti trovi nei guai, Barry. Grande. Quell'uomo è un angelo. Ah, forse qui... Ehm... Non è rimasta nemmeno una goccia. Quindi... Qua intanto cosa c'è? Distruzioni speciali relativi alla distruzione dei cadaveri. Abbiamo ricevuto nuove informazioni relative a questi esseri. Sembrano morti, ma in realtà possono tornare in vita. Tuttavia esistono dei metodi per impedire che questo accada. Al momento si conoscono due sistemi per fare in modo che non risorgano. Incenerimento e distruzione della testa. Se ulteriori metodi verranno scoperti, saranno immediatamente resi noti. Nel frattempo, per coloro che ancora hanno cara la propria pelle, c'è del combustibile al piano primo della villa. Potete prenderne quanto volete. Avrete bisogno di qualcosa per infiammarlo. Ma questo dovrete pensare da soli. Eh, infatti... Ehm... Sono quegli esseri lì che si risvegliano. Allora, accumuliamo un po' di munizioni. Poi... Per il momento facciamo che posare anche questo. Poso un attimo anche questi per raccogliere gli oggetti che ci ha lasciato il buon Barry. Lo spray è un medic kit molto potente. Cura tutta la vita. Vai coi proiettili incendiari. E... Perfetto. Adesso siamo, direi, più che a posto. Poserei un po' di cose. Sì, direi tutti i medic kit, tanto... E anche questi. Portiamoci l'accendino e di nuovo la fiaschetta. E... via. Quindi, di qua abbiamo usato tutto il liquido infiammabile. Possiamo uscire di qua. C'era la maniglia però debole. Eh sì, andiamo. Dobbiamo andare avanti. Speriamo che... Allora, intanto qua... È chiusa l'emblema della famiglia Spencer. Ehi! Fermo lì! Cosa fai? E questo... Ce lo dovremmo... Ah, ok. Vai. Chiave d'armatura. Ah, questa... È una stanza con un bel enigma dentro. Allora. Analizziamo un po' il quadro. Il titolo dice... Porta la luce della verità ai tre spiriti. Ok. Qui. Ci sono queste vetrate. Questo indossa la collana. Di rosso. Premere interruttore e non ancora. Questo indossa il braccialetto. No. Quindi collana, braccialetto... E... Questo santo indossa la corona. No. Ci sono... Un po' di corvacci qua. E qui la stessa cosa. No. Dunque, c'è un indovinello legato a questo quadro qua. Infatti, questa è protetta da tre spiriti. Il quadro di una donna che indossa un braccialetto, una collana e una corona. C'è un interruttore. Premerlo? No. Allora, la corona è... Verde. La collana viola e il braccialetto... Arancione. E... Quindi... Vediamo un po'. Il braccialetto però... Luce gialla. Proviamo a... È diventato verde? No. No. Proviamo a ripremere? Ok. Quindi... Proviamo a premere il pulsante dall'altro lato, dove c'è sempre la statua... Dove c'è sempre la vetrata con la stessa figura. Proviamo a premere di qua. Ok. Arancione. Quindi combacia con il colore che c'è dall'altra parte. Di qua, invece... Luce rossa. Rosso scuro? No. Non va bene. Ok. Proviamo intanto quest'altro. La corona era verde, mi pare, sull'altro quadro. Proviamo. No. Non va bene. Rifacciamolo tornare come prima. Ok. Andiamo da quest'altro lato. E... Proviamo... Proviamo questo. Ok. La vetrata saggio è diventata viola. Braccialetto arancione. Con lana viola manca la corona verde. Proviamo questa. Vai. Perfetto. Quindi, adesso i colori degli accessori, diciamo, sono corretti e corrispondono. Adesso proviamo a premere questo pulsante. Vai. Perfetto. Cos'è questo? Maschera mortuaria. E... Proviamo a uscire di qua. Vai. Ah, siamo... Siamo tornati al primo piano della villa. Ah, perfetto. Se non ricordo male, c'era... C'era un indovinello legato a delle facce qua sotto. Maschera mortuaria. Questa è senza bocca. Sì. Sotto c'erano delle... Ehm... Delle incisioni sul muro a forma di faccia. Quindi... Facciamo che controllare subito, visto che siamo già qui. Eccoli qua. Questo è il foro al posto del naso. Quella che abbiamo noi... È una maschera senza bocca. Ah, eccolo. Proviamo a metterla qua. Ok. Quindi... Ehm... Non dobbiamo fare altro che trovare le altre... Le altre maschere da qualche parte nella villa. Comunque... Complimenti a chi ha messo qui un cimitero dentro al giardino della villa. E di qua dovremmo tornare all'interno. Sì. Allora, questa volta passiamo di qua. Passiamo di qua. Ehm... Possiamo mettere anche... Possiamo prendere anche questa gemma blu questa volta perché... Se non ricordo male ci siamo avvicinati... Ehm... Alla stanza dove... Dove va utilizzata. Questo tra l'altro è ancora da... Da sistemare. Dovevamo ancora aprire questa porta qua. Proviamo ad aprirla. Perfetto. Prima però passiamo da quest'altra porta. Dobbiamo andare un attimo... Dove c'era l'altro... L'altra stanza per salvare con il baule. Uè. Che... Non è di qua. Ah, eccola, è qua. È qua, è qua. Non c'è nulla. Eccola qua, è una stanzettina piccola piccola. C'è un'iscrizione. Una tigre sfolgorante di luce blu e gialla. La luce blu mi fa pensare a questa gemma qua. Proviamo a utilizzarla. Perfetto, vai. Cartucce? Certo, grazie. Ok. Ora... Andiamo ancora di qua. Perfetto. Ora, abbiate pazienza. Metto sempre la mappa, ma non mi ricordo mai... Dobbiamo tornare alla macchina da scrivere di qua. Eh, ah no, c'era un baule... Un barile pieno di nafta, mi pare, di qua. Dovrebbe essere ancora pieno. Metà che rosene, vai. Perfetto, così poi possiamo bruciare qualche altro zombie. Adesso poserei... Poserei... Poserei le munizioni del... Anzi, visto che siamo qui, bruciamo il cadavere dello zombie, va? Eccolo là. Prima che si riprenda. Tiè. Andiamo a posare le munizioni del fucile perché per il momento non... Non ci serve. Recuperiamo lo spartito. Recuperiamo lo spartito. Usiamo questo. E... Dove lo abbiamo lasciato? Eccolo qua. Eh, facciamo un attimo che... Posarli perché... Purtroppo non abbiamo molto spazio. E... Torniamo indietro. Di nuovo... Nello stanzone di qua. Nel corridoio dovremmo essere. Lì c'è sempre il nostro caro amico che ci aspetta. Prima di andare oltre... Torno ancora una volta nella sala da pranzo perché... C'era questo emblema qui... Che abbiamo lasciato stare all'inizio. Prendiamolo adesso. Lo esaminiamo un attimo. E' consumato. Ce lo portiamo dietro. Intanto lo zombie sta sempre lì tranquillo. Qui abbiamo già aperto la porta. In ricordo del completamento della villa. In Cribbon... Non ancora. Aspettiamo un attimo a prenderlo. Qui c'è il pianoforte. Dall'aria costosa. Qui c'è il pianoforte. Qui c'è il pianoforte. Qui c'è il pianoforte. Qui c'è il pianoforte. Uno scaffale... Che può essere spostato. Ok. Cosa abbiamo? Spartito musicale. Esaminiamolo. Si intitola Sonata al chiaro di luna. Però se lo guardiamo meglio... E dobbiamo aprirlo. Manca una sezione dello spartito. Rimangono solamente la parte iniziale e finale. Quindi... Qui abbiamo trovato... Nell'altra stanza... Una parte di uno spartito. Proviamo a combinarle. Ed eccolo qua. Spartito musicale. Partitura completa. Perfetto. Quindi abbiamo uno spartito musicale. Proviamo a utilizzarlo qui sul pianoforte. Attenzione. Perfetto. Quindi... Un altro segreto. Meno male che Gila ha preso lezioni di pianoforte da piccola. E qui abbiamo... Prendere l'emblema dorato? Sì. E siamo rimasti chiusi dentro. Adesso fortunatamente abbiamo preso l'altro emblema che possiamo mettere al posto di quell'altro dorato. Ok. Esaminiamo brevemente questo dorato, però... Sembra identico all'altro. Anche questo è consumato ai bordi. E qui abbiamo un oggetto che brilla. Diario di Trevor. Sono passati undici giorni dal mio arrivo in questa tenuta. Come ho fatto a finire così? Un uomo in camice da laboratorio mi ha portato un misero pasto dicendomi Mi spiace che venga sottoposto a tu a tutto questo. Ma è per ragioni di sicurezza. In quel momento ho capito. Ora tutto mi è chiaro. Solo due persone conoscono il segreto di questa villa. Sir Spencer e io. Se mi uccidono, Sir Spencer sarà l'unico a rimanerne a conoscenza. Ma quale scopo? Ora non importa. Questo posto è troppo pericoloso. La mia famiglia... Spero tanto che stiano bene. Ho deciso di fuggire. Jessica, Lisa... Mi auguro solo che siate al sicuro. Come ho potuto essere così sbadato? Ho perso il mio accendino preferito. Quello che Jessica mi ha regalato per il mio compleanno. Adesso sarà ancora più difficile riuscire a fuggire da questo posto così buio. 13 novembre. La data che ha segnato il mio destino. Mia zia era entrata in ospedale appena tre giorni prima. Jessica e Lisa avevano deciso di andare a trovarla. Come vorrei essere con loro. Mentre scrivo però, i ricordi mi appaiono più chiari. Prima che svenissi ho sentito gli uomini in camice dire Probabilmente la sua famiglia è già... Non posso che pregare per la loro incolumità. Sono riuscito a uscire da quella stanza Ma uscire dalla villa non sarà altrettanto semplice Devo evitare tutte le trappole Occhi di tigre Emblema dorato Devo sforzarmi di ricordare se voglio salvarmi Ok, quindi se l'hai vista brutta pure questo tizio qua dentro Vai col nastro inchiostratore Bene, direi che con questa stanza abbiamo finito Perfetto, allora io mi fermo qui con questo video Perché altrimenti viene troppo lungo E vi ringrazio per aver visto questo episodio della serie Spero che vi sia piaciuto Se così fosse lasciate un bel mi piace Commentate e fatemi sapere la vostra E vi do appuntamento con il prossimo video sul canale Ciao a tutti